Tutte le scelte dai candidati, abbiamo iniziato cinque anni fa a scegliere i nostri candidati con la Lombardia e da lì abbiamo iniziato a sceglierli ovunque in giro per l'Italia fino all'altro giorno dove abbiamo scelto anche il nostro candidato premier Luigi Di Maio a cui faccio un grosso in bocca al lupo e che dovremmo aiutare tutti assieme. Perché dobbiamo essere una grande squadra, una grande squadra di volontari ignoti perché spesso io ne conosco tantissime di persone che si fanno in quattro per aiutare questo movimento a cambiare l'Italia.